Editing basato sul testo, ossia editare o modificare il video come in qualsiasi documento di testo. Basata sull'intelligenza artificiale Adobe Sensei AI, questa nuova funzione introdotta in Adobe Premiere Pro 2023 sarà disponibile da giugno. Per ora è disponibile solo sulla versione beta, che puoi installare dal Creative Cloud, aprendolo e cliccando su beta che trovi nella parte sinistra dello schermo. Premiere Pro beta non interferirà in alcun modo con la versione attualmente presente sul tuo computer. Sarà installata in un'altra parte del tuo HD e potrai rimuoverla quando vuoi. La prima novità la notiamo all'apertura del programma. Una volta scelte le clip da importare, sul lato destro dello schermo, sotto al nome della timeline, troviamo Trascrizione automatica. Attiviamolo e nel menu a scomparsa selezioniamo come lingua l'italiano. C'è anche un'opzione che permette di rilevare la lingua in modo automatico. Etichettatura interlocutori. Questo ci permette di scegliere se dare un nome agli interlocutori o no. In Preferenze Trascrizione possiamo decidere se trascrivere solo le clip inserite nella timeline o tutte quelle che importiamo. Questa funzione tuttavia può essere cambiata in qualsiasi momento attraverso il menu Modifica, Preferenze, Trascrizione. Premiere ha creato una nuova sequenza e ha impiegato 5 minuti e 7 secondi per trascrivere una clip della durata di 25 minuti e 10 secondi. Il nuovo spazio di lavoro, Modifica basata sul testo, posizionerà sul lato sinistro la finestra contenente il testo del video presente nella timeline. Ma anche selezionando una qualsiasi clip nel pannello di progetto, questa sarà automaticamente trascritta. Infatti questa ti si aprirà nel monitor sorgente e non in quello di programma, che è legato alla timeline. Vediamo alcune opzioni nel pannello Trascrizione. Scrivendo una qualsiasi parola nel pannello di ricerca, questa sarà evidenziata e siccome il testo è legato al video, cliccando su di essa la testina di riproduzione salterà al punto corrispondente nella timeline. Ti basterà fare doppio clic su di un testo o in alternativa premere invio per apportare delle modifiche. Veniamo al primo metodo per montare il video basandoti sul testo. Cerco la parola ciao, che automaticamente sarà evidenziata per tutte le volte che l'ho ripetuta. Fa parte delle introduzioni al video che sto montando e che ho ripetuto varie volte. In genere la scena buona è sempre l'ultima, quindi selezioni il testo da qui fino all'inizio e guarda che cosa succede. Sì, tagliando il testo qui taglia automaticamente il video. E non finisce qui. Questi tre puntini rappresentano le pause, quindi ti basterà selezionarli e premere il tasto apostrofo per cancellare una pausa dal montaggio e contemporaneamente avvicinare la clip successiva. In alternativa puoi farlo cliccando questa icona. Per tagliare una pausa, ma lasciando un buco tra le due clip puoi usare il tasto punto e virgola, oppure questa icona. Procedendo poi con i tagli delle pause ho notato dei piccoli bug che purtroppo non sono riuscito a registrare. Comunque Adobe ci dà la possibilità di inviare un feedback per segnalare un bug o richiedere delle nuove funzioni. A tal proposito sarebbe interessante avere una funzione che vada a tagliare tutte quelle indecisioni tipo mmm, ehhh, ohhh eccetera eccetera. Vediamo ora il secondo metodo per modificare il video basandoti sul testo. Ma prima ti chiedo di mettere un mi piace al video ed iscriverti al canale se sei interessato a questo tipo di contenuti. Grazie mille. Creiamo una nuova sequenza premendo il tasto CTRL più N e poi OK. Selezioniamo la clip che vogliamo inserire e come vedi si accende il monitor sorgente che quindi ci fa capire che stiamo lavorando sulla clip e non sulla timeline. Nel pannello trascrizione cerco la parola Fai attenzione. Evidenziamo la parte che ci interessa e inseriamola nella timeline premendo il tasto punto. Selezioniamo poi una seconda clip e scegliamo il punto che vogliamo inserire come abbiamo fatto precedentemente. Potrai continuare così con tutte le clip che hai. Ma attraverso il testo possiamo anche spostare l'ordine delle clip nella timeline, proprio come in un documento di testo. Lo possiamo fare selezionando il testo e premento CTRL X per tagliarlo e CTRL V per incollarlo in un altro punto. Cliccando su Crea sottotitoli potrai aggiungere sottotitoli al tuo montaggio. Sottotitoli che puoi animare come ho fatto io in questo video. Io sono Federico, ti aspetto nel prossimo video quindi e nel frattempo pace.